Più agenti e limitazioni per il traffico pedonale in città. Ecco quali sono le richieste al vaglio per il possibile e auspicati festeggiamenti per la vittoria del Napoli del terzo Scudetto. Atteso da più di 30 anni, il titolo vedrebbe certamente tifosi residenti e non riversarsi in strada per festeggiare. Per questo, insieme con il Ministero dell'Interno, si sta discutendo di tutto quanto è necessario per scongiurare il peggio. Perché tra le fiumane di turisti che stanno già giungendo in città e le migliaia di tifosi azzurri che potrebbero sopraggiungere in quel momento, il rischio caos urbano e incidenti è alto. Più agenti in strada, dunque. Un leitmotiv che sentiamo da diverso tempo, ora stimato in maniera più chiara. Servono diverse migliaia di agenti in più in città, divise che andrebbero posizionate in maniera chirurgica nei luoghi più caldi del territorio. Si pensa ai quartieri spagnoli, dove sorge l'ormai famosissimo e visitatissimo Largo Maradona, ma anche a Piazza del Plebiscito, a lungomare Caraccio, lo Scampia e Napoli Est, per i quali sono in fase di organizzazione diversi eventi celebrativi ufficiali. La questione sicurezza, è poi tornato a ricordare il sindaco Manfredi, non è però unicamente nelle mani del comune. È un tema condiviso con la prefettura e con il Viminale. C'è bisogno di più straordinari previgili urbani, di risorse per fronteggiare l'aumento dei costi dei servizi che si renderanno indispensabili, aveva dichiarato Manfredi, anticipando la discussione in programma con i vertici del Ministero dell'Interno. Intanto, sulla questione festeggiamenti, il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, il membro della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Gennaro Acampora, ha analizzato alcune possibilità per la gestione dei flussi in strada. Si potrebbe lavorare a sensi unici di marcia pedonale e stop temporanei agli ingressi, oltre a una certa soglia nei luoghi clou, anticipato Acampora, come anche a riaprire la seconda uscita della metro di Toledo come via di fuga e inserire i tutor dei turisti che stanno già lavorando molto bene. Ma è chiaro che non basta e il tavolo con il biminale dovrà dare delle risposte.